Alt'allenanti i dati covid nei comuni vesuviani. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono 12 nuovi casi di positività certificati, di cui uno in regime ospedaliero. Sono invece due le guarigioni. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 82 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata si è registrato un solo nuovo caso di contagio nelle ultime 48 ore, a fronte di 90 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta allo 0,11%. Al contempo si registrano 6 guarigioni. Sono 37 dunque i cittadini attualmente positivi. La percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni è pari allo 1,75%, 0,17 punti in meno rispetto al dato regionale che si attesta all'1,92%. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 49.213. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.202, ovvero il 61%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.011, 74%.